sono già dentro praticamente è stato un attimo non mi sono accorta di nulla ragazzi buonasera ma che spettacolo che stuporone meraviglioso il fatto di trovarmi qua ogni tanto e di presentarvi un amico del cuore con il quale magari ho così condiviso un pezzo di strada professionale emotiva e allora tanti anni fa tanti anni fa insomma qualcuno una decina almeno è successo che è venuto a studiare da me un attore io generalmente non guardando la televisione vado su internet e guardo chi sono questi attori che vengono e allora è arrivato uno fico da morire e allora ha cominciato a venire così a lezione mi ha raccontato che doveva debuttare un ruolo cantando e non aveva proprio mai cantato nella vita e diciamo che l'intonazione non era proprio un suo talento innato quindi abbiamo cominciato a studiare e lui è stato bravissimo perché abituato a studiare a formarsi ha debuttato al Sistina Rinaldo in campo che era una commedia musicale lo è ancora ed era stata scritta da Garine Giovannini ed era la commedia interpretata da Domenico Modugno e Deglia Scala una commedia musicale bellissima dove si cantava parecchio oh allora ciao ragazzi che vi vedo e là ciao ciao che meraviglia totale che quest'uomo ha studiato come veramente un dannato e poi si è fatto 6-7 mesi di tournée cantando tutte le sere e l'ho accudito veramente come un figlio lo amo molto lo stimo tanto come professionista come attore e allora se c'è non ho capito se c'è già ma vi presenterò in pochi secondi può darsi Fabio Troiano come vi abbiamo annunciato aspetto solo delle notizie di qui che magari me le diranno quando arriva lo mettiamo dentro e debuttare un ruolo per un attore che non aveva mai cantato è stata una roba insomma per lui non solo difficile ma provante in tutti i sensi perché era una cosa che non sapeva fare veniva chiamato a farla non nel teatrino del Don Orione per quanto abbia sempre la sua importanza ma proprio perché era il Sistina e la cosa bella è stata che siamo rimasti chiaramente in contatto negli anni sempre e lui è stato chiamato perché a un certo punto quando è partita questa macchina del Gavarotti and Friends del Power Speaking gli ho chiesto visto che lo stimo molto come attore e so che ha un passato di formazione importante Ronconi è stato il suo maestro ed ero sicura che avrebbe potuto insegnare degli esercizi far fare far sperimentare alle persone che venivano in aula tanti esercizi teatrali mirati a imparare nello stare qui e ora mirati a perdere ogni timore reverenziale nei confronti degli altri che ti guardano perché tu sei su un palco e devi comunicare mirati a trasmettere emozioni a viverle e a trasmetterle e quindi i suoi esercizi sono stati illuminanti per molte persone e so che parlo e qualcuno la sa perché perché l'ha provato l'ha sperimentato nel corso qualcuno mi dice che bel taglio di capelli molto gnocca va bene sappiate che dietro a quello che vedete ci sono una quantità di elastichini piccoli che per non far esplodere la cofana ho cominciato a mettere degli elastici perché i parrucchieri sono chiusi grazie a Dio e quindi ho cercato solo di arginare sembra un taglio di capelli da davanti così le un bel quel le un bel quel sto bene sto bene allora quando mi si dice parlando no con gli imprenditori con le persone che hanno la necessità di parlare in video sul palco e io racconto qual è il percorso qualcuno mi dice sì vabbè ma io non devo mica fare l'attore cioè va bene tutto ma ok e allora viene spiegato viene spiegato che gli attori gli attori bravi e io spero di portarvene tanti perché insomma mi piace condividere no come abbiamo condiviso le persone che sono passate di qua nelle interviste gli attori che hanno fatto un percorso destrutturante prima di tutto perché tutti tendiamo a far vivere l'ego e a purtroppo quindi dare il giudizio e sentire il giudizio gli attori invece fanno tutto un lavoro pazzesco per togliere questa roba qua per andare a cercare insomma le emozioni vere senza andarci troppo dentro a bagno ma ma utilizzandole quindi sentire dove sono immaginate di avere una cassettiera con tanti cassettini piccoli ecco se noi sappiamo dove abita la gioia dove abita il devasto il dolore dove abita la fretta dove abita la noia dove abitano una serie di cose nel momento in cui siamo chiamati a vestire non solo un personaggio che questo riguarda proprio la professione degli attori ma quando siamo su un palco abbiamo la capacità di chiudere i cassetti che non ci interessano e andrebbero a limitare quello che stiamo facendo e aprire quelli giusti che sono quelli magari chi fa il viaggio dell'eroe chi parla della propria storia che ha necessità proprio di raccontare la propria storia per essere motivante nei confronti di chi ascolta c'è una struttura e quindi loro che questi attori bravi quelli bravi si riconoscono hanno fatto questo studio profondo della sceneggiatura sanno esattamente come rendere funzionali le emozioni per è bellissimo perché parlando con Fabio quando si parla di ruoli esatto Pierangelo Perazzi oggi si è cimentato ha fatto lezione e sta cominciando a studiare un'area di Mozart e quindi adesso cita già madamina il catalogo è questo dal Don Giovanni sta studiando un'area sai uno viene a studiare canto e pensa di cominciare a cantare la delusione tremenda è che generalmente io pianto nelle gambe in mezzo alle gambe un violoncello intanto gli faccio sentire come che cosa fa il violoncello e poi cominciano a fare i vocalizzi destabilizzanti la pipetta le bolle le cose insomma che cosa succede quindi niente insomma si lavora tanto tanto nel interpretare i ruoli fare provini cinematografici tutti gli attori anche se hanno un nome se ormai sono in carriera sono soggetti ai provini come tutti i doppiatori comunque anche di nome fanno il provino vocale e generalmente i film sono americani quelli che bisogna coprire come ruoli come protagonisti e quindi generalmente viene così sentito o visto il provino e poi si sceglie l'attore che è più indicato per vestire quel ruolo quindi non si smette mai di studiare ma non si smette proprio mai e allora è un lavorone bello allora chi fa chi ha il fuoco della recitazione del teatro chi ama questo tipo di percorso in realtà se tutti gli esercizi sono indirizzati verso il desiderio di comunicare liberamente vi assicuro che tanta roba come diceva un amico detto ciò vi racconto e lo dico perché spero che intanto qualcuno sia collegato anche a qualcuno di loro stiamo facendo la prima ondata di accademia online e quindi siamo chiusi in un gruppo segreto segreto insomma ci sono solo loro gli allievi che sono tutti professionisti e per chi mi conosce un po' forse non so loro quanto mi conoscevano prima però vi assicuro che stanno sperimentando delle cose spappagallenti e allora ieri sera abbiamo fatto lezione fino a tardi io intanto vi racconto delle cose perché Troiano a momenti si palesa e abbiamo fatto lezione fino a tardi e quando abbiamo finito la lezione ho detto ma ragazzi ma siete veramente tutte molto gnocche perché siete no siamo truccate generalmente davanti al video un po' di trucco sa minimo no uno così eccoci yes secondo me è qualcuno di loro ma che figata domani mattina invece ci svegliamo e mettiamo un video nel nostro gruppo in pigiama con la faccia e il cappello scarmigliato tutto proprio un devasto deve essere caffè in mano in pigiama qualcuno l'ha fatto a torso nudo perché sai ci provano comunque perché le gnocche non mancano nel nostro corso e allora a un certo punto abbiamo fatto anch'io un video proprio da così che uno non si farebbe vedere nemmeno e invece sti cazzi è venuto fuori il nostro fantastico sti cazzi e tutti abbiamo postato un video breve con chat in maniera addirittura qualcuno dal letto direttamente di che coglione abbiamo finito l'una e mezza di fare lezioni adesso si è qua a far sto e allora facendo ciao ciao sono ancora nel letto è stato divertentissimo a vedere queste donne struccate che sono più gnocche ma veramente lo dico poi mi sono confrontata anche con Fabio con Loretta ci siamo detti ma quanto sono gnocche perché uno che gnocca è gnocca dentro quindi si vede fuori anche però per carità poi il trucco ne faremo anche uno video in abito da sera con le schinelle le paillette andrò a aprire i miei armadi di quando cantavo sì 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 una roba veramente veramente emozionante e divertente e quindi pensate che all'interno di accademie dove veramente c'è un percorso ora Pierangelo potrebbe raccontarvi delle cose interessanti perché Pierangelo è addirittura andato in America non mi ricordo più dove adesso me lo dirà a fare un master di recitazione bizzarro dove l'hanno tenuto dentro cinque giorni dove insomma non è che proprio no è tornato provato anche lui perché ci sono vari step vari step il nostro è abbastanza light però sicuramente la gente non si aspetta di tornare a giocare e visto che il gioco è fondamentale per poter ritornare un minimo bambini i bambini non hanno freni inibitori non conoscono la paura a parte la paura del buio la paura dell'abbandono che sono due cose che abbiamo spero risolto ormai però la paura l'ansia di parlare in pubblico insomma fa cagare ad osso dalla paura un po' tutti e quindi questi esercizi ti danno una bella zavorra bella pesante perché perché è un viaggio dentro di noi andiamo a scoprire le emozioni e le usiamo ci sono tanti esercizi e anche quando si pensava ad un corso online ho detto va bene ma io sono abituata a fare tutta questa roba fisicamente io poi sono una che tocca che ha bisogno del contatto fisico ma speriamo insomma sì il corso online noi l'abbiamo l'ho fatto per un'azienda che mi ha chiesto un intervento online con delle persone dell'azienda che erano lontane dall'Italia e da Roma quindi e quindi mi sono così messa a fare questa roba qua anche da lontano però averne 82 non so quanti siamo siamo tanti ho detto chissà se poi arriva tutta questa roba qua perché ci sono esercizi che sono mirati proprio veramente solo alla telecamera solo al fatto di vincere la paura di parlare in quel buco lì chissà perché qualcosa accade diventa tutto freezer tutti cagati perché bisogna parlare lì che capisco non è una roba difficile pensare di riuscire a trasferire delle emozioni da un buco guardo lì non conto è guardare la gente che c'è un ricambio di energie guardo lì e mi sento un po' coglionazzo allora si ha la tendenza a guardare se stessi insomma secondo me è una cosa che si può imparare secondo me nella vita gli umani hanno fatto cose più difficili però poi quando abbiamo a che fare con le emozioni qualcosa succede qualcosa succede e allora ciao Nina ciao a tutti adesso vorrei vedere anche le facce le cose allora non solo fa bene anche all'anima dice Pierangelo si torna a socializzare e cercare oltre che dare conforto e appoggio nel prossimo vero cioè proprio una macchina di una trasfusione di di emozioni di cose e sono molto felice perché questo gruppo che è nato un po' tutto un po' così buonasera ciao piacere un po' così adesso via e non è neanche passato tanto e quindi ci accomuna il fatto di stare un po' in difficoltà un po' di lanciarci cioè ragazzi bisogna metterci in gioco bisogna mettersi in gioco e se penso a il protocollo fico che è il scopri libera e gioca scopri chi sei libera sticcazzi e gioca con tutte le cose che hai scoperto di te beh insomma no come dire fa bene a tutto peccato che mi vengono fuori solo i user user non vedo va bene ciao Silvia Gavarotti nome e cognome e codice fiscale anche ciao cosetta tutti insomma dai ciao grazie adesso volevo informarmi un attimo per vedere se possiamo avere così come mi era stato promesso non so che aveva che così ravanava perché non lo so se Troiano è uno che è tecnologico quanto me o più di meno lo so io no io no e allora va bene va bene due minuti arriva va bene dai resistiamo due minuti arriva va bene la fortuna di essere umani è una grande fortuna perché gli umani sono unici da che culo sono unici cioè noi siamo unici è figo vuol dire che tutti abbiamo qualcosa da dire che gli altri non sanno beh è così e quindi tutti arriviamo da una storia propria personale che per quanto possa sembrare simile la storia forse il titolo ma ognuno sulla propria pelle la vive in un modo diverso e a modo di raccontarla in un modo diverso Fabio Troiano io spero che abbiate visto i suoi ruoli ci racconterà come si studia un personaggio perché una cosa che mi aveva tanto colpito a parte vabbè la sua carriera ris le cose in teatro era il ruolo che doveva caratterizzare e interpretare forse cado dalle nubi sì forse era il film con Che Cozzalone poi ce lo dirà lui perché io faccio casino dove è stato molto attento a interpretare questo ruolo di questo ragazzo gay senza crearne una macchietta senza esagerare senza dipingerlo inutilmente e allora racconta spesso che andava a mangiare in un posto tutti i giorni perché c'era un cameriere gay molto elegante che parlava con i clienti insomma e lui lo studiava lo ha studiato nei dettagli e quindi scusate ho letto una cosa esilarante firmati che non vedo allora questa questa gnocca qui è sicuramente dell'aula nostra e dice riguardo al video che io ho chiesto di fare stamattina sempre liberi tutti però lo sapete che io non è dittatura liberi tutti sono consigli però l'ho fatto anch'io in pigiama e quindi Silvia il video di stamattina non dovevi farlo mi ero iscritta al corso per apparire migliore in pubblico non più cessa sciocchina segnochissima adesso Fabio arriva un attimo adesso risolvono sta roba non ho capito se arriva col computer col telefonino allora non è vero noi non siamo cesse e ricordatevi che il percepito degli altri non è il nostro se noi ci guardiamo allo specchio e diciamo no ma che faccia no io stasera veramente non so come fare c'ho una faccia cazzo non c'è trucco proprio non è vero è come stiamo dentro noi che ci rende più gnocche o meno gnocche è l'energia che abbiamo addosso ieri avevamo in aula uno dei nostri amichetti che sta facendo il corso e a un certo punto ha detto ma comunque io mi sento più figo stasera dopo l'esercizio ha detto mi sento più figo e va a dire masca dove sei figo Fabio appalesati quando voglio ridere di gusto vado a rivedere l'esercizio che ci viene quando dovevamo recitare l'atto primo scena prima dell'amleto ve la dico quando Fabio ha fatto lezione con noi ha aperto l'amleto e ha dato l'inizio il primo atto l'inizio del primo atto di amleto di Shakespeare a un certo punto gli attori coinvolti che erano appunto le persone che si erano iscritte per fare questo corso no vabbè non vi dico adesso chi ha scritto molto evidente è Cosetta esatto e amleto avesse potuto si impanava ha capito nella bar insomma se ancora l'autore dico perché è venuta fuori una roba straordinaria perché ognuno metteva del suo e questa roba del primo atto di amleto è passata alla storia ah che lavoro viva la libertà qualcuno dice va bene nessuno è un cesso no questa non la dico dai Pierangelo nessuno è un cesso l'unico e mia suocera è orrendo guarda difendo la categoria una santa quella donna dunque il grande troiano in quel film ha fatto una parte bellissima e con grande professionalità super film senza dubbio senza dubbio bene mi date delle notizie sta arrivando un attimo si asciuga i capelli col phon la tecnologia io e Fabio veramente siamo due dentro a una ruota con due cricetti faccio delle robe io in arma veramente in arma e Fabio so che non è proprio un grande tecnologico eh sì che figo Fabio tanta roba appena lo vediamo ce ne rendiamo conto forse non lo so chissà Fabio Fabio avete visto andate su Instagram a vedere che cazzo pubblica perché si è fatto un film da solo interpretando 5 o 6 Fabi andate a vedere perché è bellissimo non subito perché adesso arriva qua stasera quando volete andate a vederlo signori andiamo signori Fabio Troiano Viander lo vediamo come stai? allora Silvia ti dico solo che facevo prima a trovare l'antidoto per il covid 19 te lo giuro non ci capisco un cazzo io cioè sembravo veramente non lo so ma cioè proprio poi mi avvilisco adesso mi sono messo anche tipo una vestaglia degli anni 70 gialla ma siamo solo io e te o chi c'è io non vedo nessuno no anch'io non vedo nessuno siamo io e te altri 1500 ma qual è il problema? e dove sono questi 1500? li ho tutti sotto al computer ah perfetto aspetta fammi vedere io non ce li ho di giallo vestito dice Marzaghi bello senti ho visto su Instagram che ti sei fatto un film mamma mia ragazzi ma perché io qui sono in in questa quarantena forzata di tutti questo stare a casa questo stand by eh e io sto da solo amore quindi capisci bene che il computer come vedi non è che c'è una padronanza di quelle proprio cioè computer padronanza zero veramente zero no no ma è zero ma neanche zero cioè il computer cioè prima il mac dopo un po' mi ha detto ma dai mi hai rotto il cazzo chiudimi così mi è posso dire delle parolacce o no beh siamo sì è il gruppo del Gavarotti in Frenze e allora va ok no ti giuro era è incredibile cioè proprio niente non so amore parli con una che veramente ti dicevo due cricetti dentro la ruota io e te esatto io c'ho mangio dei grissini intanto sì ma fanno bene perché alzano le difese immunitarie lo sai sì il grissino sì Fabio Troiano un po' ipocondriaco esatto guardate è imbarazzante parlare con qualcuno e non vederlo eh cioè non è imbarazzante no è strano perché di solito se fai uno spettacolo comunque sai che ci sono li vedi eh e se fai un film se fai un film non li vedi ma sai che non ci sono quindi cioè no qui invece ci sono e tu non li vedi quindi se uno ti fa così mentre tu parli non lo vedi vabbè io posso vedere se lo disegnano qualcuno dice sei fichissimo muoio grazie buon appetito altri grazie Fabio prego ho ricordato nell'attesa che tu montassi il computer e collegassi dei cavi col saldatore e ho ricordato l'esperienza che abbiamo vissuto insieme è venuto Steve Jobs a aggiustarmi è sceso ho detto dai vabbè faccio io levati abbiamo capito dai non è per te no ti giuro mentre io stavo aggiustando è uscito il Mac nuovo questo oramai è vecchio non c'è più ma io ho quasi imparato però hai anche un computer bello tu immagino ho un computer bellissimo in realtà fighissimo ma lo uso solamente per fare la spesa online è già buono però sì che però tanto non ci riesco mai perché ogni volta che vado a spesa online mi dicono ieri è stato bellissimo perché ieri c'è stata questa risposta questo è di Carefour se c'è qualcuno dei 1500 che lavora da Carefour lo voglio mandare a fanculo va bene ok no vi giuro perché allora faccio la spesa tipo alle 6 di pomeriggio già su internet c'è già lì sul sito di Carefour c'è da casa tu devi fare la fila non puoi entrare subito no ma non è che cioè non è che devi cioè non è un monologo è la verità tu praticamente sei sul tuo computer e ti dice puoi entrare tra 12 minuti ma come cioè tu a casa mia col mio computer posso entrare tra vabbè tu aspetti fai tutta la spesa riempi il carrello fai tutto quello che devi fare dopo consegna non c'è nessuno che te lo consegna dice prova dopo mezzanotte minchia dalle 5 vabbè io sai che sono uno che si addormenta presto così eh vabbè metto la sveglia metto affanculo entro a luna minchia a luna mi hanno detto a mezzanotte entro a luna sarà entro a luna devi aspettare 3 minuti minchia c'è qualcuno prima di me a luna che deve entrare nel supermercato vabbè aspettiamo 3 minuti aspetto entro nel supermercato vado sclico il carrello era già pieno le cose intanto erano marcite vado clicco consegna e cosa viene fuori collegati dopo mezzanotte ma è dopo mezzanotte adesso ma per quanto cazzo mi devo collegare dopo mezzanotte di quando di che mese allora oggi pomeriggio oggi pomeriggio giubbotto cappello occhiali maschera guanti dopo sci sono andato alla famma a fare la spesa che tu ce l'hai sotto casa poi sì ce l'ho sotto casa ma ti giuro per me è imbarazzante perché proprio ho proprio paura cioè prendo la roba così la prendo ok poi la faccio passare sotto uno screen ok pulita posso prenderla poi se qualcuno mi arriva vicino che mi vada le distanze cazzo va via lo sta dicendo da un mese le distanze e lui ma è cosa ti metta di là ma che cazzo no ti giuro che io vorrei alla famma quando entro vorrei dire senti potete fare una cosa potete chiudere la sala cinesca 10 minuti io faccio la spesa e me ne vado vi do 20 euro ma chiudete tutto voglio stare da solo minchia perché poi tu lì essendo anche piccola c'è la gente che va forse rompo i coglioni a dire queste cose no no dobbiamo parlare di altro vita vera non so di cosa dobbiamo parlare no no poi chiedo io se ho bisogno va bene allora la gente sta davanti a te quindi tu fai aspetti uno che sta davanti a te che prende i biscotti poi tu aspetti il tuo metro e mezzo ma la cosa è che quello che è davanti a te mentre tu mentre sta andando avanti sistematicamente si è dimenticato qualcosa prima quindi a un certo punto si gira e ti punta e tu dici porco due adesso le distanze come cazzo facciamo allora tu fai un po' in marcia indietro e lui sta venendo ancora e dopo poi fai scusi ma lei dove cazzo deve andare a prendere la roba se no gliela prendo io gliela tiro lei mette il piccadrello io gliela tiro ma non venga verso di me perché se lei viene verso di me le sta tutto il cazzo io non so cosa fa dove vado con le mie distanze che poi mi giro e c'è un altro già dietro e quindi io sono intrappolato conoscendo è un devasto per te no è terrificante guarda questa cosa e qui poi arrivo a casa e mi metto la giacca da camera la pippa e ti senti al sicuro così sì mi sento al sicuro e via vabbè questa è la situazione ma mi vedi bene tu o no? io ti vedo benissimo dillo bene dillo che ruolo io ho principalmente nella tua vita io sono? attento che ruolo ho io nella tua vita privata? tu nella mia vita privata sei il mio medico praticamente avete capito porca troia mi fai le mie punture visto? chi ha visto di più il mio culo è mia madre la mia fidanzata e Silvia Gavarotti per un momento più Silvia Gavarotti di tutti e si fidava solo di me esattamente quindi track punture punture questo è successo in Rinaldo in campo esattamente in Rinaldo in campo dove il tuo ruolo principale era quello di insegnarmi a cantare e poi da lì sì ci sei riuscita hai fatto un miracolo insieme si fanno io ne ho fatto da sola hai studiato tanto no tu hai studiato tanto vabbè perché nelle cose bisogna studiare se uno pensa di arrivarci così no non ci arrivi così senti prego raccontavo che tu hai da noi nel mio corso ai nostri corsi del adesso si chiama power speaking nel tempo bello da solo Gavarotti in Francia adesso è power speaking power speaking io l'unico che conosco è il power ranger adesso è il fratello questo è il fratello power ranger power speaking esatto esatto allora voglio dire ma tu perché tu sei straordinario negli esercizi che fai fare perché ti diverti come un matto anche tu nel farvi fare e quindi raccontavo che hai un passato però di uno che ha studiato tanto che ha studiato sempre che si è formato con Ronconi ma fare l'accademia da giovane con me quante volte ti viene voglia di dire ma va faccio altro sì adesso ti sento bene per un attimo ti senti poco adesso mi senti benissimo sono arrivato a tu che hai studiato con Ronconi mi ho detto io torni indietro e ti dico tu che hai studiato con Ronconi in un'accademia seria è un po' bloccato anche lui verrà è un formato con Ronconi e cosa? no è perché è ribloccato anche tu nell'immagine no no vabbè ho studiato ho studiato ho fatto le cose sul serio perché se vuoi veramente fare una cosa aspiri a fare qualcosa ti devi applicare davvero non devi fare finta cioè non deve essere vabbè mi ci dedico un po' no ti ci devi buttare a capofitto il ruolo che ti ha divertito di più perché una cosa che mi piace tanto quando la racconti Fabio perdonami sì sì prego so che c'hai la partita no la partita è impossibile che cazzo stai a guardare no no io ogni tanto le notizie le notizie del coronavirus sempre ma la devi smettere ma smettila fai conto che Borioni chiama a me per sapere delle cose sei stupido mi chiamo fa pronto Fabio allora senti io qui non ci sto più capendo niente tu che sai allora io faccio ascoltami Borioni non è che ti devo ogni volta dire io che ti salvo il culo se no se fai così e rompi i Borioni se no non c'è vai lì e poi fai lo sborioni che sai tutto rimani i Borioni e delle cose non le sai vabbè adesso non mi ricordo la domanda che ti ho fatto ah no sì ok una cosa che mi piace tanto quando la racconti perché mi ammazzo da essere sempre chi vede un film finito una fiction finita non sa quanto culo uno si fa soprattutto no dovendo fare dei ruoli allora mi piace quando racconti per esempio non so le ultime dirisse che non eri più seduto davanti al computer ah certo che facevo che a un certo punto i personaggi ovviamente dovevano anche inseguire dei no dei malviventi e da sceneggiatura a un certo punto questi protagonisti dovevano inseguire dei malviventi che dove cazzo decidevano di correre sulla sabbia a ostia allora e la situazione è questa che il malvivente in qualsiasi film vedi il malvivente il malvivente ha sempre i jeans la scarpa da ginnastica e la t-shirt e lui scappa tutto ginnico agile a volte addirittura gli danno anche i pantaloncini la maglia col numero esatto la maglia col numero e lui scappa ginnico ti guarda indietro sto sfigato che non corri tu invece che sei il supereroe che fa il supereroe c'hai la tua armatura e l'armatura dei carabinieri che cazzo gli anfibi la tuta il giubbotto antiproietti la pistola il cazzo il mazzo io praticamente andavo in giro con 70 kg in più e quindi il malvivente che corre tu con gli anfibi le pistole il giubbotto antiproiettile che solo il giubbotto peserà 6 kg che quando te lo metti ti abbassi di 5 cm che dici ma scusate io ero più alto prima infatti gli anfibi te li danno perché hanno dei tacchetti e quindi ritorni dalla tua altezza e quindi io correvo e in più correvamo sulle dune quindi tutto con sta cazzo di sabbia queste cose il regista faceva dai vai più veloce non vedi che sta scappando e normale che se io ho l'armatura lui sembra Usain Bolt va a 3000 perché se lui va piano si vede che va piano e ho capito ma io allora o mi date un quad e io lo inseguo quel quad e quello è stato perché poi non è che è buona la prima no no purtroppo non è buona ma non è solo non è buona la prima perché ci sono diverse inquadrature allora c'è il campo lui lui che scappa da lontano e si vede tu che corri poi il primo piano tuo che te li poi il primo piano suo poi tu che stai per prenderlo e non lo prendi tu che cadi cioè quindi ci sono la farai 20 volte 20 volte e invece un'altra volta e per dirvene un'altra del sacrificio scusate un attimo scusate vale non so cosa avete sentito voi ma avevo bisogno di farlo ah io ho sentito vale eh vale vale ho chiamato ok quindi vale ok no invece un'altra volta stavo facendo una serie no no sì stavo facendo un film tv con Vanessa incontrada e anche lì allora praticamente la classe degli asini si intitolava e io e Vanessa eravamo marito e moglie avevamo due figli e uno di questi figli era disabile c'era una sindrome non mi ricordo più neanche che sindrome fosse e che è una storia vera tra l'altro sì e lei era una maestra di scuola e quindi questa questa ragazzina nostra figlia c'era questa sindrome per cui non camminava e c'era la scena dove noi l'accompagnavamo a scuola benissimo uno immagina la scuola è normale che cazzo ne so una scuola quanti gradini c'ha tre quattro gradini vogliamo fare proprio cinque ok se voi andate a vedere quella serie tv si chiama la classe degli asini proprio perché non dico cazzatele riguardo a come fossero le scale allora c'erano tipo 70 scale così io mi così così cioè 70 scale così ma non sto scherzando sembra cioè tipo la comodità era fare con lo schilip ti dico solo questo cioè per andare proprio tranquillo oppure con una seggiovia tipo che ne so praticamente erano le scuole delle dolomiti che tu le elementari dove le fai sulle dolomiti ah va bene allora pinghi la seggiovia ok e in tutto ciò noi ovviamente la fiction la giri a luglio ad agosto e dove è ambientata a dicembre quindi tu c'hai anni 70 quindi cappotto di lana completo di lana sciarpa di lana cappello di lana cioè tutta la lana del mondo era tutta addosso a noi quindi noi arriva il regista fa benissimo allora questa scena mi piacerebbe che per vedere proprio la fatica della famiglia il disagio della famiglia tu prendi in braccio tua figlia e la porti fino a sopra la scuola io ho detto ma ascolta Andrea Porporati il regista Andrea siamo sicuri cioè tu capisci che sono 70 scalini sì sì dai Fabio va bene 70 la prima rampa perché c'erano due rampe ma la cosa bella è che nostra figlia 12 anni praticamente era più alta di me pesava tipo 60 chili minchia figlia la bambina in braccio lei tutta che faceva no doveva fare quella con la sindrome quindi è tutta un po' così e stava tutta dura proprio dura come dice i porca quindi brava molto brava bravissima straordinaria figlia in braccio e vai e in più io dovevo anche parlare non solo Vanessa che parlava cioè no perché noi qua e io facevo sì sì perché sì minchia la facciamo una volta la facciamo due la facciamo tre dopo un po' il regista fa stop senti però le battute non si sentono bene minchia Andrea ho 60 chili sto facendo 170 scalini è luglio sono vestito con il montone ma di che cazzo stai parlando cioè ma di cosa cazzo stai parlando in più vado su dai facciamola l'ultima volta l'ultimo sforzo io così a metà rampa mi fermo perché proprio non ce la facevo più la bambina scende le braccia sono rimaste così cioè non andavano giù cioè avevo le braccia così che non andavano giù e c'è oh cazzo adesso mi rimarranno così per sempre perché non vanno giù ma ti giuro uno sforzo mondiale ma guarda proprio una roba terrificante terrificante e certo non sempre gli attori non fanno fatica insomma no no anzi cioè no no fanno veramente molta fatica poi guadagniamo 50-60 milioni di euro l'anno però questa battuta funziona sempre marcia miseria no vabbè vabbè insomma dai non ci si può lamentare no 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 assolutamente comunque io ho capito una cosa che dobbiamo trovarci e scrivere un monologo su queste cose qua sì perché guarda l'avrò già chiesto cento volte ma è come se le sentissi la prima volta no però io vorrei sapere da quelli che ci stanno seguendo se ridevano o non ridevano tanti ha 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 sei fantastico fate dei commenti addirittura qualcuno me lo dice che non riesca a capire la faccia dice ma parliamo di quando facesti la melevisione allora ascolta io parlo proprio con te c'è il fermo immagine ah ok cioè fermi ti accadono adesso sì no pensavo che si fosse ferma l'immagine invece eri proprio tu che ti sei fermato no no ero io che mi ero fermato anche lì la melevisione è stato un altro periodo molto bello la melevisione una cosa bellissima ci sono tanti aneddoti carini ma una cosa scusa scusa mi sono fatta la bp addosso da ridere allora vatti a cambiare no invece una cosa fighissima della melevisione che è anche un'altra cosa è un programma a cui io sono molto affezionato ci sono tanti aneddoti ma ne voglio raccontare due uno è anche un po' polemico nel senso che ad un certo punto sai ogni anno io oramai era tre o quattro anni che facevo la melevisione vado a parlare con la facendo un programma per i bambini tutti gli autori anche la produttrice no parlavano tutti come se stessi parlando con dei bambini no anche tu che eri adulto no ti parlavano con come allora un giorno bisognava ridiscutere il contratto e io vado là a chiedere più soldi a dire scusatemi ma qua facciamo le cose dei bambini e la la produttrice mi fa sì però perché poi parlavano tutti così ma non sto scherzando è la verità cioè sembra una cazzata ma è così sì però tu vorresti più soldini i soldini ho detto scusa alla produttrice non dico il nome ho detto scusami ma secondo te ma ascoltami un attimo io vado in panetteria e dico scusi quanti soldini costa questo pane ho bisogno di soldini vado in banca faccio mi fa prelevare dei soldini ma scusami io voglio cioè il mood era quello giusto però per rimanere nel mood sì il mood era proprio quello eh ma tu vorresti più soldini ma come vorresti più soldini cioè ma da dove va i soldini gli hai offerto una caramella il cioccorino ti hai dato fuori il cioccorino gli hai detto sa dai dividiamo questo esattamente arrivederci non ho più fatto la melevisione e basta perché è stata un'esperienza bellissima mi sono divertito tantissimo poi noi con la melevisione io ho avuto anche la fortuna di fare una tournée teatrale ma era il periodo in cui la melevisione andava ma di brutto cioè proprio eh sì io per i bambini ero tipo non lo so ero tipo bonobox degli U2 cioè quando mi vedevano ero Freddie Mercury cioè uscivo e quando andavamo in giro quando andavamo a fare la tournée aspetta che ci sei? sì ci sono io quando andavamo in giro a fare la tournée praticamente c'erano dei facevamo gli spettacoli dentro gli stadi cioè 8000 persone 10.000 persone pazzesco cioè io sono andato a fare lo spettacolo al forum d'assago cioè in dei posti in dei palazzetti enormi e finito noi da contratto avevamo la cosa che dovevamo fare le foto con questi bambini no? e quindi finivi dovevi fare le foto però c'erano i bambini piccoli ma poi c'erano anche quelli proprio piccoli cioè tipo 3 anni che non sapevano neanche tu chi cazzo fossi e i genitori portavano il bambino di 8 anni e portavano anche quello di 3 e poi quando dovevi fare le foto ti davano il bambino di 3 anni in braccio e trovavano chi è lui? chi è? e il bambino mi guardava come se avesse potuto parlare e diceva ma che cazzo ne so questo e io mi facevo le foto così con questi bambini con delle facce improbabili che mi guardavano e volevo dire ma chi sarà questo signore che mi sta guardando io sto facendo una foto con mia madre che mia madre mi fa la foto con questo signore e facevamo poi io da perfetto ipocondriaco non era ancora ovviamente era un sacco di anni fa ma io io andavo in giro con il boccione così di amuchina ogni volta che mi davano un bambino un attimo ok manco voi sei stato in sala operatoria chiaramente lo facevi per te no? per tutelare il bambino no no cazzo me ne dico per me lo facevo sai i bambini quanti batteri ma no che merda il bambino gioca per terra si mette le mani in bocca io che cazzo ne so allora allora mi veniva dicevo aspetta un attimo ragazzini un momento ecco qua vai facciamo altra fotina perfetto no guarda ti giuro andavamo in giro e poi facevo facevo un facevamo per divertirci un gioco con un altro dei miei uno dei miei amici eravamo in cinque con uno con cui avevo legato di più perché era un amico storico facevamo delle delle sfide quando uno era in quinta diceva all'altro adesso durante lo spettacolo a un certo punto devi dire che ne so marmitta allora l'altro entrava mentre parlava no perché poi marmitta ci entrava un cazzo così anche non ci entrava un cazzo dovevi trovare il modo per dire marmitta onomatopeico ci trovavamo tutti dei nomi strani delle cose delle parole strane e durante lo spettacolo dicevamo queste parole e ci divertivamo un sacco veramente i bambini eravate voi i bambini eravamo noi i bambini eravamo veramente noi era bellissimo il gioco del teatro porta molto il fatto di fare gli esercizi teatrali interpretare altri ruoli aiuta tanto a diventare bambini a giocare con le proprie emozioni ma che poi alla fine in realtà quando uno fa il mestiere dell'attore e deve fare un personaggio non fa altro che ritornare bambino perché io dico sempre quando facciamo le nostre chiacchierate con i tuoi gruppi io dico sempre se tu al bambino gli dai in mano un pezzo di legno e gli dici questo pezzo di legno è un fucile per lui è un fucile e non si fa il problema di dire ma è un pezzo di legno e io devo far finta che è un fucile devo far capire all'altro che è un fucile no è un codice quello è un fucile man mano mentre quando cresci sono più sono le paranoie le sovrastrutture le paure che tu ti crei nei confronti degli altri perché pensiamo molto spesso di essere al centro dell'attenzione solo noi no perché tutto il mondo guarda noi quindi quando tu ti metti e che chiunque ti giudichi in maniera negativa sempre allora quando devi far finta di fare una cosa se non ci credi prima tu come possono credere gli altri alla cosa che stai facendo il bambino invece con la purezza e col candore che ha con zero sovrastrutture se a lui dici che lui è uno sceriffo lui è uno sceriffo lui si cioè lui si mette i baffi finti si veste malissimo perché poi si fa il costume terrificante perché non è che i bambini sono non lo so i stilisti capito si fanno dei dei costumi terribili ma per loro sono l'indiano è mazinga è il mostro e loro ci credono e le femmine e le femmine che fanno che giocano le bambine esattamente esattamente quando ha la bambola e per lei è la bambina gli dà da mangiare cioè è questa la forza che uno deve recuperare quando fa il mio mestiere e non solo il tuo vabbè un po' sì e vabbè questo è quindi se tu dovessi dare il consiglio a qualcuno che ha una necessità di liberare la propria personalità perché vive il timore reverenziale perché ha paura del giudizio in pubblico perché magari deve stare in pubblico parlare in via se tu dovessi dare un consiglio quale sarebbe guarda il consiglio che posso dare è il non pensare mai che chi ti sta chi ti sta guardando ti voglia dare un giudizio cioè o per meglio dire fottertene del giudizio che un altro ti può dare cioè te ne devi fottere come se ne fotte il bambino perché il bambino se ne frega certo e l'arma vincente è fottersene cioè è avere quella naturalezza e quella quel candore è ritrovare quel candore del bambino molti che stanno a casa adesso magari hanno dei figli e adesso per necessità devono giocare di più con i figli utilizzate questo per imparare dai vostri figli come vi dovreste comportare voi davanti a qualcuno imparate dai vostri figli perché i vostri figli se ne fottono e ve ne dovete fottere voi quando andate su a parlare con qualcuno quando dovete fare una presentazione di un lavoro o parlare di qualcosa anzitutto parliamo anche cioè capiamo anche una cosa nel momento in cui tu vai a proporre un lavoro a qualcun altro no? a presentare un progetto a vendere un prodotto tu stai parlando di una roba che conosci benissimo cioè non è che stai andando lì e gli sta io non è che vado lì e vado a vendere che cazzo ne so gli strumenti per i dentisti non so un cazzo non è che vado lì e mi metto a inventare cioè quindi tu vai già lì già con un'arma in più rispetto a chi ti sta ascoltando che tu stai vendendo un prodotto o qualcosa che tu conosci benissimo perché nel quale credi ma è perché il tuo pane quotidiano è qualcosa in cui credi tu è quello che ti dà da mangiare e quindi tu avrai una conoscenza a 360 gradi e già questa cosa ti deve mettere in un no? in una condizione più favorevole e poi fregartene del giudizio dell'altra persona tu stai lì per te e poi la cosa che dico sempre è se non ci credi tu in quello che stai dicendo ma come potrà crederci quello che sta davanti a te cioè se non ci credi tu ma stai a casa è come dicono oggi è certo perché se tu parti con la tua macchina e dici oddio adesso faccio una figura di merda non parto non andrà bene non andrà bene fai retromarcia parcheggia e vai a casa cioè tu devi uscire che sai già che hai vinto perché se non esci che hai vinto non è che i giocatori di calcio quando vanno a giocare dicono eh mica adesso perdiamo facciamo una partita di merda io gioco malissimo sì Ronaldo dice ma ora oggi giocherò di merda sbaglio tutto Ronaldo entra e dice porco due qua oggi faccio il macello e fa il macello sempre poi lui è Ronaldo ma non è che se tu devi essere per forza Ronaldo no no giusto noi abbiamo un dialogo interno che ci devasta si chiamerebbe mente se non mentisse sempre continuamente esattamente si chiamerebbe verità o ginepra se si chiama mente un motivo c'è senti ma quando un attore interpreta un ruolo no magari drammatico giusto per andare a toccare anche delle corde qual è che cosa qual è la macchina che poi scatena l'emozione cioè io vado al cinema vedo il tuo film e mi viene lo stranguglio perché 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 lì siamo di nuovo le regole della recitazione non sono molte e la base è fondamentale ed è sempre quella è l'ho detto prima e lo ridirò mille volte credere in quello che stai facendo se tu credi in quello che stai facendo tu entri in una condizione poi se c'è il momento in cui tu devi piangere no io che guardo il film io spettatore non so tu a cosa stai pensando realmente no ma a me interessano le tue lacrime in quella condizione ma se io per piangere ho bisogno di un meccanismo interno che è anche tecnica riuscire a scavare qualcosa che mi suscita il pianto quella è una cosa mia e non lo deve sapere nessuno cioè e non gliene frega niente a nessuno cioè a me quando io dico a un altro di piangere e piangi perché in questa scena piangi perché hai scoperto che la tua fidanzata ti tradisce no anzitutto se ti cali in quella situazione un meccanismo si innesca e anche lì è un meccanismo di verità ci devi credere veramente se non ci credi tu non ci credo io ma se poi io piango perché penso a un giorno x in cui mia nonna è mancata non gliene frega un cazzo a nessuno è solo il meccanismo che deve far scattare in te la lacrima ma l'efficacia è per andare da A a B io voglio che tu arrivi a B poi la strada che tu utilizzi a me non mi interessa ma poi non me ne frega niente è una cosa tua privata e rimarrà tua senti e quindi degli esercizi che noi abbiamo fatto insieme che hai fatto fare davi gli stati d'animo e sei riuscito a fare un esercizio dove nessuno parlava non c'era bisogno di aprire la bocca per emettere parole questo perché noi umani abbiamo la possibilità di comunicare anche senza usare il verbo assolutamente sì ma poi noi lo facevamo tra l'altro con non solo non utilizzando le parole ma con una staticità cioè uno andava lì si metteva in una posizione e stava fermo immobile non parlava e non si muoveva eppure si innescano dei meccanismi ma perché è la situazione di racconto che ti fa entrare in uno stato d'animo e se tu entri in quel racconto c'è la parolina magica che io dico sempre stai con quello che fai dove l'hai imparata quella parolina tu questa parolina la diceva sempre si è bloccato ti aspetto ti aspetto ridimmelo però fabio adesso ritorna abbiamo perso adesso ritorna tanto ormai aveva capito che cosa schiacciare per venire in diretta tanta roba vedi bellissimo esercizio stupendo i quadri me lo ricorderò finché campo quell'esercizio al teatro a testaccio quindi sono contenta perché qui ci sono persone che l'hanno sperimentato l'hanno fatto l'hanno provato sulla pelle e stai in quello che fai è una regola fondamentale per noi sta arrivando fabio eccoci ok scusami perché ti si è spento il computer e quindi come vi avevo detto prima lui arriva da quest'accademia fabio troiano arriva da quest'accademia però scrivetevi quale domanda volete che gli faccia mentre non vede non sente quale domanda nei film che avete visto di lui tanto lui non vede cosa c'è scritto leggo io e dirò tanta roba e tanta consapevolezza sì 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 rigorosamente ragazzi questi sono gli esercizi che portano la libertà di esprimersi io mi sento una donna fortunata ho avuto culo perché sono passata di lì e poi ho incontrato delle persone che la sanno e la sanno scrivete le domande che volete fare gli eccomi ecco scusami è che a un certo punto mi ha chiamato la mia fidanzata e mi ha mandato in merda tutto sempre così non voglio fare commenti no 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 dai e non mi ricordo più cosa stavo dicendo stai in quello che fai e io ti ho chiesto dove l'hai imparata questa cosa magica ok e lo diceva sempre Ronconi Luca Ronconi era un suo mantra stai con quello che fai e io ogni volta che mi trovo in difficoltà con qualche ruolo o con qualche scena mi fermo un secondo e dico stai con quello che fai e quindi spappagallire a pensare ad altro no 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 non devi pensare ad altro è tutto guarda la cosa la cosa importante da capire uno è non mettersi mai questo maglione giallo mai nella vita ecco no però è tutto molto più semplice di quanto sembri e quando dovete fare qualcosa pensate che è veramente molto più semplice di quanto uno si possa immaginare e questa cosa vi mette in una condizione di rilassatezza rilassatezza nella tensione ecco una cosa molto importante è la tensione è il 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 saper stare cioè uno dice sempre guarda un insegnante si chiamava la Giannotti un insegnante di teatro incredibile per me allo stabile è stata la Giannotti quando lei spiegava inizialmente noi uno sai si sedeva così a sentire l'altro accavallava le gambe e lei diceva l'ascolto è importante quanto quello che sta parlando quindi se io ascolto mi devo mettere in una posizione di ascolto cioè in una posizione in cui tutto il mio corpo è pronto a ricevere perché se sta così non è pronto a ricevere niente cioè io faccio sempre gli esempi con il calcio perché mi piace il calcio il portiere se deve parare un rigore non è che si mette così dice vabbè tanto lui tira poi io no si mette pronto per con le orecchie appizzate a 360 gradi a dire dove me la potrà tirare qua 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 e così e così è il mestiere dell'attore cioè quando qualcuno mi parla io devo stare pronto a ricevere quello che mi dice e a rispondere molto spesso mi fanno una domanda e mi dicono ma come fai a imparare un copione a memoria e quando mi fanno questa domanda io mi incazzo mi incazzo perché la tua domanda non può essere ma come fai a imparare un copione a memoria uno cioè allora io faccio sempre una stessa allora anzitutto fai le prove per un mese ma quello è il meno ma se io sono pronto e ascolto te e non penso a quello che devo dire io chi ha scritto il copione e la storia che sto rappresentando le battute sono collegate se tu mi dici una cosa io ti risponderò rispetto a cosa che mi stai dicendo tu quindi la cosa importante è la cosa importante allo stesso modo del dire e l'ascoltare cioè se io sto in una situazione di ascolto ma non col corpo con tutto quando uno mi dice una battuta io risponderò e molto probabilmente risponderò anche nel modo giusto e nel mood giusto cioè è un'altra cosa assurda soprattutto del teatro no è perché lo guardo sbasso le repliche si dice sempre questo sto scaricato si dice ogni spettacolo si chiama replica ma questo secondo me è un grandissimo errore chiamarla replica perché uno spettacolo non sarà mai la replica di quello del giorno prima è la replica di quello che si dice ma di quello che accade ogni giorno è diverso perché il mio ascolto sarà diverso e perché sarà diverso quello lo stato d'animo della persona dell'attore con cui io sto parlando certo non è un film è proiettato è riproiettato ed è sempre lo stesso esatto ma è così cioè quindi non è tutto molto più semplice cioè bisogna ci sono quattro regole fondamentali e poi giocare io ho dato un compito abbiamo delle persone meravigliose che si sono iscritte in questo corso online che io sto facendo in un'aula virtuale dove se avrai voglia magari un'incursione sarebbe bello la facessi se hai tempo e voglia nel tempo poi te lo dirò me lo dirai e ho mandato un provino un provino da interpretare cioè uno stralcio sono degli stralci diversi presi da tanti copioni di fiction ma sono poche battute panico perché intanto vabbè c'è la quarantena quindi qualcuno è in quarantena a casa da solo e quindi non ha le battute di ritorno della spalla ma non è un problema perché insomma ci sono brani che si possono veramente raccontare senza aspettare le altre battute altre invece avranno in famiglia qualcuno che dovrà dare le battute di d'appoggio no? ora io non vedo l'ora e vorrei anche coinvolgerti un giorno eventualmente insieme con loro guardiamo questi provini meravigliosi ok perché sono tutti lì spappagalliti e faranno questa cosa che sarà il gioco che è più divertente della vita cioè immaginare immaginare di fare un ruolo diverso dal proprio senti qua hai alzato la ola ti devo dire la verità sono tutti molto d'accordo con quello che che dici che hai detto ed è tutto molto utile non solo per chi fa l'attore ma proprio per liberare la propria comunicazione tu sei d'accordo? io sono che è utile anche per sì sì assolutamente assolutamente ma guarda il il mestiere dell'attore poi alla fine non fa altro siamo tutti attori siamo tutti attori sempre cioè noi facciamo delle da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire facciamo delle interpretazioni da se non vogliamo dire da Oscar almeno da Davide Donatello ma ogni giorno ne faremo due o tre è solo che quando ci servono per necessità le facciamo e non abbiamo timore o niente quando poi ci chiedono a comando di farlo diventa più difficile diventa più difficile è lì e lo scarto è solo quello sì va bene avete domande? ah sì qualcuno mi ha chiesto come è stato lavorare con Chezzo con Chezzo con Checco Zalone? anche questa domanda me la fanno sempre vabbè sti cazzi può essere anche una cosa che può una curiosità è uno stronzo? è uno che no 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 è una persona è una persona straordinaria spesso persone persone che risultano in video persone belline carine così poi magari nella vita o sul lavoro con i colleghi sono delle merde no invece lui è una persona veramente straordinaria sbadiglia sereno adesso ti mandiamo è una persona straordinaria ed è anche un caro amico ecco veramente è una persona super senti Fabio ma tra una sceneggiatura drammatica è una commedia esilarante dove la commedia te la pagano un po' meno guarda io per la mia indole vado sulla commedia perché mi piace perché voglio sempre trovare il lato positivo e il lato leggero delle cose certo che fare una cosa drammatica fai l'attore un po' più impegnato e sei super figo però non me ne frega un cazzo grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, vabbè, ci siamo sganciati e siamo rientrati, perché tutti usano le piattaforme. Ci sei o ci sono, noi ci siamo, voi ci siete e via andiamo. Ma come cazzo è che… Vabbè, sì, giusto, giusto. Senti, allora, visto l'ultima cosa, poi ti lascio andare a dormire e a prendere tutti i farmaci che ti preservano. Allora… Volevi… Coglione, però. No, dimmi, no, che prego, non ti sento. Vai. No, no, dimmi, 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 cosa mi volevi dire? No, niente, amore, si era fermata l'immagine, quindi non capivo se eri una fotografia o se parlavi. Eh, ok, vai, sei vivo, ti vedo muoverti. Ah, ok. E quindi, dicevi? No, ma io non devo dire niente. Senti, se riusciamo ad avere un po' di linea… No, no, sì, come stavi parlando. Ah, va bene. Allora, la mia domanda è, visto che queste persone sono 83, si cimentano in una cosa mai fatta, un consiglio, un paio di consigli a dire, no, dove dentro ci siano sti cazzi giocate, no? Un consiglio tuo. Dobbiamo preparare un provino. Anzitutto la memoria. Perché se no, se io do dei fogli a qualcuno e imparare cinque battute e arrivano e non sanno neanche la memoria, vuol dire che non gliene frega un cazzo. E quindi se non gliene frega un cazzo a loro, perché me ne deve fregare a me? Capito? Questa cosa è fondamentale. Quindi la memoria. E dopo la memoria, la cosa principale è stai con quello che fai. Cioè, quando leggi le battute, quando vedi la situazione, stai in quella situazione lì. Non lasciarti fuorviare da tutto ciò che in quel momento non serve. Se io sto in quella situazione, devo stare lì dentro. E devo provare e riprovare ad entrare se non ci riesco. Ma non c'è niente di onirico. È tutto molto materiale. Se io sto leggendo delle battute dove c'è due che si lasciano, io devo entrare in quella situazione. Voglio dire, se è stato lasciato Brad Pitt, anche voi sarete stati lasciati una volta. Che cazzo? Ricordatevi, quando siete stati lasciati, entrati in quella situazione. Certo. Cioè, bisogna essere aderenti a quello che si sta facendo. E crederci fino in fondo. Perché se non ci credi, io non ci credo. Punto. Senza dubbio. Senti, teatro o cinema? Se tu dovessi scegliere. Scegliere. Ma guarda, se io devo scegliere, scelgo un bel progetto. Un bel progetto che può essere cinema o teatro. Certo, il teatro è l'immediatezza, è l'adrenalina, è il contatto con il pubblico, è quando si apre il sipario. Sono tutti lì e in questo momento... Distanza, cazzo! Io di no. Però il teatro è meraviglioso. È meraviglioso il teatro. Il cinema anche. Cioè, il cinema è una magia che nessun altro ti restituisce. Cioè, la magia del teatro è questa. è che chi entra a teatro e si siede sa che sta vedendo una cosa finta, che non esiste. Chi lo fa sa che è una cosa finta. Ma, per far sì che tu che lo vedi ci credi, io lo devo essere talmente vero che tu entri in quella cazzata che ti sto raccontando. Cioè, è un'iperbole, ma è così. Il teatro è questo. Perché il teatro, quando si apre il sipario, e c'è Shakespeare, e c'è la finestra, la porta finta, tutti sanno che è finto. Ma se io non sono vero lì dentro, tu, pubblico, non ci crederai mai. Perché tu ti siedi ed è palese che stai vedendo una cosa che non esiste. Ma io, proprio per questo, devo essere vero. Perché se io non sono vero, salta tutto. Infatti, l'attore dice sempre la verità. Sempre. Un attore, se è bravo, vuol dire che sta dicendo la verità. Certo, ma per forza. Perché deve essere aderente alla realtà che sta rappresentando. E quindi deve essere vero. Assolutamente. Ragazzi, oro, eh? Parlo per tutti, nel senso che tutti quelli che hanno ascoltato e ci sono stati con noi stasera, consiglioni, eh? Altro che power speaking qua, eh? C'è, proprio roba, sono gli strumenti per comunicare. Ecco perché non si chiama public speaking quello che facciamo. Perché noi usiamo gli attori bravi. Ecco. E gli altri no. Fabio, dai, ti lascio andare. Che farmaco prendi stasera? Ma non lo so, forse prenderò il Lexotan. Ma dipende. O il Lexotan o le zigulì. Lo capisco. Non prendere la dolce e un chesina, eh? No, 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 no. Una notte in merda no. Senti, ma come la stai vivendo questa cosa da solo a casa? Ma no, alla fine, guarda, mi ha insegnato che ci sono tantissime cose superflue, che non servono a niente. E questa cosa, secondo me, è una riflessione che staranno facendo in molti. Ci sono tante cose superflue che uno se le può risparmiare. Mentre nella vita di tutti i giorni, preso da qualsiasi, no, da qualsiasi interferenza, ti fanno risultare quasi tutto necessario. In realtà di necessario c'è molto poco. Molto, molto poco. Non d'accordo. E questa... Nel male, forse, ci sta facendo bene. Sicuramente non saremo più quelli che eravamo, no? No, 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 no. No, no, no. Ma sicuramente saremo migliori, eh? Eh, sì. Tutti. Tutti saremo migliori. Perché è un momento di assist... È l'assestamento. Che uno di solito non può fare e non fa. Ma tutti dovrebbero fare. e secondo me questo ci ha insegnato che ogni tanto prenderci dieci giorni per spegnere tutto e dire aspetta un attimo capiamo sì qualcuno magari non se lo può permettere perché ha magari una condizione economica diversa e deve proprio andare a lavorare perché non può prenderseli però sicuramente anche il valore delle vacanze saranno diversi, il valore intesa come vacanza, partiamo, andiamo facciamo, forse ci sarà anche più desiderio di condividere delle cose che hanno scoperto obbligati a scoprirle, a stare insieme poi vabbè io sono molto triste per gli amanti, tutti gli amanti a me mi hanno fatto una tristezza a sto giro eh, cazzi loro è stupido senti ma tu cosa fai una giornata tipo, ti svegli la mattina a che ora? mi sveglio la mattina verso le otto e mezza colazione e poi leggo un po' poi pranzo poi mi metto a fare le faccio delle cose su Instagram se qualcuno mi segue che mi segue bellissime ragazzi andate a vedere questa roba di Instagram sono bellissime e queste cose qui mi occupano tanto tempo e mi piacciono anche e mi piacciono molto se no non le farei e poi la sera mi guardo un film e basta vabbè quindi il telegiornale non lo guardi più? no no il telegiornale si alle 18 ho l'appuntamento con il mio amico Borrelli conferenza stampa lui quando si siede non so se notate lui si siede e fa così perché vede se ci sono se ci sono se no non parlo comunque tu sei uno che sta bene con te sì sì no io sto bene sì sì sto tranquillo sto benissimo con me stesso no 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 non mi questa solitudine non mi non mi non mi dà fastidio oddio io sono ti parlo da super privilegiato quindi già questa condizione è è molto favorevole per cui tu non non devi preoccuparti di alcune cose e quindi questa cosa questa condizione me la vivo in maniera diversa da qualcun altro che purtroppo non può viversela come me la vivo io però non non mi dà fastidio cioè mi ha no mi ha ridimensionato un po' e quindi questo è bene ti voglio bene tu lo sai che a qualunque ora puoi chiamarmi grazie sulla temperatura il saturimetro li ho sempre portati di mano grazie anche io ti voglio bene io vi ringrazio saluto tutti virtualmente anche se non non vi vedo fate lontani comunque tenete le distanze cazzo mascherina se non avete la mascherina state a casa guanti e e niente magari ci rivedremo eh sì sicuramente ci rivedremo e non ci abbracceremo ma chi cazzo li vuole abbracciare che ne so ci faremo ciao così da lontano ciao ciao ragazzi posso aggiungere una cosa perché io ho paura che qualcuno non lo sappia andate a vedervi grazie al cielo sei qui su youtube Fabio Troiano era una trasmissione bellissima di di improvvisazione dove degli attori venivano chiamati al volo uno per volta gli facevano aprire una porta e loro non sapevano dove sarebbero finiti dove sarebbero in quale scenografia capitati cioè non sapevano niente Fabio Troiano ha dato una dimostrazione pazzesca perché la realtà è che non sapeva che cosa sarebbe accaduto aprendo quella porta e ha improvvisato tutto con gente che continuava a interagire con lui invece loro sapevano che cosa stava accadendo e lui ha la velocità della luce però se lì uno guarda quella cosa lì è quello che dicevo prima lì è l'ascolto che è fondamentale cioè devi stare a 360 gradi con l'ascolto perché se qualcuno ti dice qualcosa e lo perdi tu devi rispondere ma risponde se l'ascolto è al 100% si può fare perché tu quando vai tutti i giorni e vai in giro ed entri in un negozio non è che sai quello che cazzo ti dirà cioè no quindi stai lì in ascolto e magari ti dice salve buonasera oppure ti dice ma che palle e tu rispondi perché stai in ascolto certo è così è così va bene dai sta cominciando il film lo vedo dallo sguardo stasera mi voglio vedere Pinocchio no davvero sì quello di Garrone quello con Benigni dove Benigni fa Pinocchio Benigni che ha 670 anni fa un bambino di 12 vede no sai quello che fai se ci credi tu ci crediamo anche noi esattamente quindi faccio così lo guardo va bene grazie Fabio baci immensi ti voglio bene ciao Silvia ciao more ciao ciao dai tanta roba eh ah che spettacolo quest'uomo bene non l'avevo mai visto sarà che non l'avevo mai visto pimpante così nell'intervista però eh veramente aveva una gran voglia di parlare anche lui eh per quanto credo che tra dirette cose non so al telefono videochiamate anche lui sarà eh ospitato a destra e a manca non so se vada per tutto perché poi Fabio è uno schivo sesso prima di andare a dormire poi dormi da dio dopo gli mando un whatsapp grande Fabio grazie di cuore anche il quotidiano e beh sì e dobbiamo sapere tutto uomo vero attore madre natura ci pensa lei ci ha dato una bella strigliata io sono sempre più d'accordo con questa roba qua io lo seguo posto tutto e condivido benissimo allora però andate a vedervi questa roba qua di questa trasmissione ci sono altri attori che lo fanno però vi assicuro uno che mi ha fatto impazzire è stato Fabio perché questa esperienza è stata oh c'era in pubblico in sala in diretta televisiva e lui apriva una porta e qualcuno all'interno diceva grazie al cielo sei qui e lui non diceva capito dove cazzo sto cioè doveva capire e ha improvvisato una roba esilarante esilarante e anche altri attori lo hanno fatto Stefano Masciarelli anche lo ha fatto è stato molto bravo e anche Carlotta Anatoli un'altra attrice straordinaria che mi auguro di ospitare anche qui ma come Stefano Masciarelli magari gliela strappiamo l'intervista ma veramente veramente un esercizio bizzardo interessante ragazzi via tutti adesso andate a fare le cose che stavate facendo se ci sono le persone che fanno parte della Masterclass Live andate a studiare il provino a memoria attenzione che ha detto delle robe pesantone per tutti gli altri nostri amici ci vediamo qui perché sicuramente al giro un altro attore folle lo invitiamo c'è un elenco Lillo vediamo se è a casa va bene ragazzi un abbraccio grazie a tutti grazie a Fabio grazie a Fabio Alessi che mi fa regista mi cazzo anche dei baci grazie a tutti